Ragazzi, sapete qual è il miglior software per fare mastering? Sono sicuro che molti di voi che mi conoscono già da tempo magari si aspettano quale sia la risposta, perché magari hanno visto tanti altri miei video e quindi più o meno sanno come lavoro e magari sanno quali sono le mie preferenze e il mio modo di lavorare. Ma per tutti quelli che mi conoscono poco, che hanno visto pochi video o che magari questo è il proprio video che vedono qui sul mio canale, credo che la risposta non sia molto scontata. Ed è per questo che voglio fare delle doverose premesse. Ovviamente il miglior software per fare mastering tra virgolette non esiste, perché il miglior software per fare mastering ovviamente dipende da voi, ognuno ha le sue preferenze riguardo ai software. Però in questo video voglio spiegarvi perché secondo il mio punto di vista questo software di cui vi parlerò è il migliore. Sono almeno 4 i punti fondamentali che rendono questo software secondo me il migliore, almeno rispetto agli altri software. Ebbene questo programma in questione è Wavelab della Steinberg. Per tanti che mi seguono da tempo sicuramente questa era una risposta scontata, ma in realtà per tutti gli altri questa non è una risposta scontata, perché da che mondo è mondo la maggior parte dei mastering engineer usano magari per fare mastering Pro Tools o Cubase. Ma in realtà non sono i software più indicati per farlo, perché semplicemente sono software più indicati al mixaggio e alla produzione. Invece un software come Wavelab è molto indicato per fare mastering. Ad esempio con Wavelab possiamo montare un CD audio, mettere tutti i CD text, mettere tutte le informazioni che ci servono per fare un disco intero. Per poi esportare il DDP e consegnarlo al laboratorio di stampa. Ma comunque andiamo a vedere quali sono questi 4 punti fondamentali che rendono Wavelab il miglior software per fare mastering, secondo il mio punto di vista. Il primo punto fondamentale che rende secondo me Wavelab tra i migliori nel fare mastering sono gli strumenti di analisi live, che sono questi che ho posizionato qui in alto. Vi faccio notare che sono posizionati qua in alto e sono molto comodi da avere sempre sotto mano e Wavelab dà questa possibilità. Mentre magari con Pro Tools o Cubase dovremmo aprire plug-in e metterli in un secondo schermo oppure aprirli ogni volta sullo stesso schermo e diventa un po' macchinoso. Comunque vi faccio vedere anche visivamente come funziona e ve li spiego. Il primo è lo spettrometro, è molto basilare, lo conoscete tutti quanti, vi posso garantire che funziona davvero bene. E l'ho confrontato, questo e anche gli altri tools di Wavelab, li ho confrontati con quelli gratuiti e con quelli a pagamento. Vi posso dire che funzionano davvero bene, sono affidabili. Ma andando avanti un altro molto importante è questo qua, l'indicatore dell'intensità acustica. Che altro non è la scala Ebu R128. Visivamente è molto interessante, si legge bene, ci dà questi tre valori che sono quelli più importanti, tra cui il primo questo è il rosso, che ci permette di capire effettivamente a quanti loops suona il nostro brano. Andando avanti c'è lo spettroscopio, che va a braccetto con lo spettrometro e praticamente fa la stessa cosa ma ci fa vedere le bande. Anche questo funziona molto bene e avere questi due analizzatori sempre a portare di mano, soprattutto in mastering, è veramente una cosa ottima. Poi un altro strumento molto importante è l'ondoscopio. Questo ci permette di vedere come cambia proprio l'onda sonora che stiamo trattando in base ai processi che abbiamo fatto. Magari riusciamo a vedere se stiamo schiacciando troppi transienti. E' molto utile da averlo in mastering. Un altro strumento importante è anche lo spettrogramma live. Io diciamo che non lo uso molto, solo pochissime volte e ci aiuta a capire l'intensità delle frequenze in un brano e può essere utile controllarlo in mastering. Poi ovviamente abbiamo il beatmeter che ci aiuta a capire a quanti beat è il nostro brano. Ci aiuta anche a capire come lavora con i beat. Ad esempio questi qua in alto sono quelli più significativi. Sappiamo che ogni puntino che si accende sono 6 dB e quindi riusciamo a vedere che questo master ha circa 12 dB di dinamica. Poi abbiamo anche il correlatore di fase che è questo qui che lo conoscete tutti. A meno uno abbiamo cancellazione di fase, completamente controfase. A zero abbiamo la massima apertura a stereo e più uno siamo tendenti al mono. Ragazzi dimenticavo la parte più importante del primo punto. Il pan meter che è questo qui è diciamo la parte più importante degli strumenti di analisi. E vediamo come funziona. Qui sotto abbiamo appunto il pan meter che ci permette di vedere i picchi del canale sinistro, i picchi del canale destro e anche l'RMS del canale sinistro e del canale destro. Questa è una feature di WaveLab veramente unica. Pochissimi plugin ce l'hanno. Poi qui sopra invece abbiamo il livello del canale sinistro, l'RMS del canale sinistro, l'RMS del canale destro e il livello del canale destro. Quindi questi qui all'estremità sono i livelli e questi qui in mezzo sono gli RMS. E devo dire che sono davvero molto affidabili e precisi. Ma ora passiamo al secondo punto. Il secondo punto che rende WaveLab il top nel mastering secondo me è la master section che è questa qui che vedete qui. Ora abbiamo due slot ma ne abbiamo massimo 10 o 12, non ricordo ma poco importa. Vi faccio vedere come funziona. Apro un plugin a caso, apro questo qua gratuito dell'acustica audio, il coffee pan e vi faccio vedere le potenzialità di questa master section. Noi ad esempio per ogni slot possiamo decidere di lavorare in stereo o in mid o in side. Cliccando qui possiamo decidere se lavorare in stereo oppure in combinazioni particolari, però non mi soffermo troppo a spiegarvelo. Poi possiamo lavorare sul canale sinistro, sul canale destro, sul mid e sul side oppure sul sinistro, sul destro, sul mid e sul side in maniera parallela. Quindi questa master section che è unica e ce l'ha solo WaveLab ci permette di lavorare in mastering davvero in maniera molto molto dettagliata e potente. Terzo punto fondamentale è l'analisi offline che si fa in questo modo. Cliccando su analizza, andando su analisi globale e abbiamo questa cartella. Ci basta andare su analizzare e abbiamo queste serie di dati. La prima cartella ci dice i picchi che è interessante conoscerli e soprattutto ci dice anche questi qua reali, il true picchi. Ci permette di capire se il nostro master è affetto di problemi intersample. Poi abbiamo l'intensità acustica. Qui a destra abbiamo la scala Ebo R128 che ci permette di capire a quanti loops suona il nostro brano. Invece qui a sinistra abbiamo l'analisi RMS sempre di tutto il brano. Importante abbiamo l'extra che ci permette di capire quanto problema di errore DC offset ha il nostro brano. E questi sono i tre dati più importanti che ci servono. E questo tipo di analisi offline ce l'offre WaveLab nativamente. Mentre gli altri software non hanno questo tipo di tool che permette di fare questo. Quarto ed ultimo punto importante è questo qui, lo Smart Bypass. Questo è il menu che ci appare. Come vedete abbiamo audio originale, audio processato più correzioni di livello e audio processato. Cosa ci permette di fare questo Smart Bypass? Chiuso in questo modo. Prima di tutto si aggiornano i guadagni cliccando un paio di volte. Dopo fatto questo possiamo switchare tra audio originale e audio processato con correzioni di livello. Quindi audio originale e audio processato avranno lo stesso identico volume e così saremo in grado di capire senza distorsioni psicoacustiche gli interventi reali che abbiamo fatto, capendo all'istante se abbiamo peggiorato o migliorato il suono. Questi sono i quattro punti fondamentali di WaveLab che secondo me rendono questo software il migliore per fare mastering. E vi posso garantire che una volta che vi siete abituati a lavorare con WaveLab, tornare indietro e fare mastering con Cubase, con Pro Tools o con Simini diventa davvero difficile perché vi risulterà tutto davvero macchinoso. E mi voglio fermare qui con i motivi per cui secondo me questo software è il migliore. Ce ne sarebbero altri ma secondo me questi sono i quattro più importanti che difficilmente sono ripicabili su altri software che non sono dedicati prettamente al mastering.